Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Qualche settimana fa su Google Plus aveva annunciato che al raggiungimento dei 300 iscritti sul mio canale YouTube avrei lanciato un nuovo giveaway. Il momento è arrivato, gli iscritti sono 307, per cui ringrazio tutti quanti e vi mando un bacione, e oggi apro un nuovo piccolo giveaway. Il giveaway, come ho detto, è piccolo, in quanto il mio è un canale piccolo, ma per me questo risultato, insieme alle quasi 10.000 visualizzazioni che ha raggiunto il mio canale fino adesso, è un grossissimo traguardo. Per cui condividerò con voi un prodotto di make-up che possego anche io e con il quale mi sto trovando molto bene, che è questa palette, la Eye Candy dalla SIC. È uscita quest'estate nella Eye Candy Collection, è un prodotto che presto sarà irreperibile in quanto è già uscita la palette della nuova collezione, per cui ho deciso di metterlo in paglio e farlo vincere ad uno di voi. Questa che vedete inquadrata è effettivamente quella che riceverà il vincitore o la vincitrice del giveaway, per cui la ripongo e vi mostro brevemente la mia. Vedete che le cialde che compongono la palette sono queste 12 sicuramente estive, ma comunque versatili, in quanto ci sono anche colori scuri che rendono la palette portabile anche adesso. E vi enuncio brevemente le regole per partecipare a questo giveaway. Innanzitutto dovete essere iscritti a questo canale, dovete mettere mi piace sotto a questo video e terza regola, aggiungere il video ai preferiti. Infine dovete lasciare uno ed un solo commento a testa di senso compiuto, per cui no faccine e no spam. Il giveaway rimarrà aperto fino alle 23.59 del 31 ottobre 2013, dopodiché lo chiuderò e massima entro tre giorni farò l'estrazione mediante suadeo.ch. Se riesco filmerò l'estrazione del giveaway, per cui pubblicherò il relativo video, ma voi in ogni caso, oltre a tenere d'occhio il mio canale, tenete d'occhio anche l'info box di questo video, perché scriverò lì nell'apposito spazio il nome del commento vincitore. Un'altra piccola regola facoltativa è visitare la mia pagina Facebook, della quale lascio il link sempre giù nell'info box, ma come ho appena detto non siete assolutamente obbligati, in quanto innanzitutto non tutti hanno accesso a Facebook. E poi, un po' come vale anche per il mio canale, voglio che la mia pagina venga visitata ed eventualmente cliccata mi piace, solo se vi piace effettivamente, per cui vedete voi. Per cui questo è tutto, io mando innanzitutto un grosso in bocca al lupo a tutti quanti di voi, avranno il piacere di partecipare al giveaway. Ringrazio ancora per 307 volte tutti coloro che fino adesso si sono iscritti al canale, e vi mando un bacione. Vi ringrazio per aver aperto questo video e avermi seguita, e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!